Musica Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale youtube Oggi andremo ad effettuare insieme l'unboxing Che poi non lo chiamerei proprio un unboxing Perché ve le sto semplicemente mostrando Di queste memorie RAM Sono due memorie RAM da 8GB ciascuna Della Kingston HyperX Savage 1600MHz di frequenza Le ho acquistate su Amazon Sotto nella descrizione del video potrete trovare i link per acquistarle Queste memorie andranno montate sul mio nuovo computer Che sto costruendo, sto assemblando Per video editing e rendering professionali Bene, per oggi è tutto Spero che vi sia piaciuto questo brevissimo video Lasciate pure un mi piace al video Condividete ed iscrivetevi al mio canale youtube Alla prossima ragazzi Ciao a tutti Grazie.